Ciao a tutti, eccomi tornate con una nuova videoricetta. Oggi vi propongo la torta mascarpone e cioccolato. Vi volevo dire, prima di iniziare con la lista degli ingredienti, che tutti gli ingredienti che utilizzerò in questo video li ho acquistati io. Quindi questo non sarà un video pubblicitario. Allora, gli ingredienti che ci serviranno sono 150 g di zucchero, 250 g di farina, 3 cucchiai di cacao, un pizzico di sale, 250 g di mascarpone, un bicchiere di latte a temperatura ambiente e una bustina di lievito per dolci. Ho preso una ciotola, ho messo all'interno la farina, ora metto il pizzico di sale, lo zucchero, il lievito e i 3 cucchiai di cacao. E vado ad amalgamare un po' con il cucchiaio. Vado a schiacciare un po' il mascarpone, poi lo andrò ad aggiungere alla farina e andrò ad amalgamare con lo sbattitore elettrico e man mano andrò ad aggiungere il latte. Una volta aver amalgamato bene tutto il composto e essermi anche sporcata con tutto il cioccolato, va bene, lasciamo dopo laverò la maglia. Vado a prendere uno stampo da 26, una tortiera da 26, metto all'interno il composto e vado a cuocere 170 gradi forno preriscaldato per 25-30 minuti. La nostra torta mascarpone e cioccolato è pronta, è una ricetta semplice, veloce, gustosa, io ve la consiglio. Se provate a farla, fatemi sapere. Ciao a tutti e alla prossima, ciao! Grazie a tutti!